bentornati su my football jersey dopo aver visto tutte le maglie dei top club rifacciamo un salto nel passato questa è una maglia retro ovviamente del barcellona è la terza della stagione 2017 2018 una maglia a mio avviso fantastica a la maglia è stupenda avete visto mi piace tantissimo il tono del colore la lavorazione che c'è sulla maglia e questa diciamo sfumature queste queste questi punti di arancio fluorescente bellissima il costo lo vedete qui sopra con un costo così per una maglia così che non so cosa state aspettando se volete ordinare la maglia o saperne di più trovate tutti i riferimenti qua sotto nella descrizione del video andate a vedere sul sito perché insieme a questa troverete tantissime offerte che vi attendono ora prima di lasciarvi la parte finale vi volevo chiedere come al solito di iscrivervi al canale è un piccolo gesto che dovete fare ma ci aiuta a mostrarvi maglie belle come questa del barcellona tutti i giorni per oggi è tutto alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.